Musica Bentrovati tra i spettatori di TV Sera appuntamento con le previsioni meteorologiche per venerdì 21 ottobre dall'osservazione della mappa del tempo medio per l'Italia possiamo notare che sulle regioni settentrionali avremo condizioni di tempo stabile e spesso soleggiato sulle regioni centrali dopo una mattinata piuttosto perturbata le condizioni meteorologiche tenderanno a migliorare nel corso del pomeriggio mentre discorso diverso per le regioni meridionali dove risulteranno instabili su gran parte del territorio con la possibilità di temporali sulle isole la ventilazione risulterà prevalente dai quadranti settentrionali sull'Abruzzo al mattino troveremo condizioni di instabilità in particolar modo sui settori occidentali della nostra regione tuttavia non escludiamo che rovesci e locali temporali possano sconfinare fin sulle zone costiere della nostra regione nel corso del pomeriggio le condizioni meteorologiche miglioreranno nelle zone occidentali mentre permarranno condizioni di instabilità associate a deboli piogge lungo la fascia costiera a partire dalla serata le condizioni meteorologiche migliorano su tutto il territorio con i cieli che si presenteranno nuvolosi vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo appuntamento vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo appuntamento